La Liguria oggi ha bisogno dell'aiuto di tutti, di usare tutti i mezzi che può per rimettersi in piedi. Non credo che la nazionalizzazione sia la strada migliore. Mi sembra una nostalgia da Prima Repubblica degna dell'ultimo film di Checco Zalone. Lo Stato deve controllare che chi gestisce i suoi beni, che sia privato sia pubblico, lo faccia bene nell'interesse di tutti e in sicurezza. Non trasformarsi in un gestore dei suoi stessi beni, perché ahimè quando l'ha fatto non abbiamo avuto buoni risultati né di efficienza del servizio né di equilibrio dei conti.